George Jacques Danton è stato un politico francese nato il 26 ottobre 1759 e morto il 5 aprile 1794. La sera del 13 luglio l'avvocato Christophe Lavaux, entrato nei refertori dei Cordillieri, vide Danton. Da lui fino ad allora ritenuto uomo d'ordine, in piedi su un tavolo, arringava i suoi ascoltatori esortandole alle armi. Il 14 luglio Danton non prese parte agli eventi accaduti dalla Bastiglia, volendo dimostrare il proprio sostegno all'assedio popolare, il giorno seguente si recò in serata la Bastiglia per accertarsi che tutti i prigionieri fossero stati liberati e assumi il controllo. La replica di Danton consistente nel farsi eleggere rappresentante del distretto al comune e difendere Maratto. L'8 ottobre il tentativo di far arrestare l'amico del popolo andò a vuoto. Le giornate di ottobre avevano visto una serie di manifestazioni che chiamavano Danton e gli altri capi della rivoluzione a reagire. Il 20 aprile 1792 la Francia entrò in guerra, in cui si affiancò la Prussia. La fase iniziale non ha resi ai transalpini sconfitti in tutte le battaglie. Il 14 giugno dichiarò instaurata la legge di pubblica, secondo cui era lecito a ciascun cittadino uccidere un traditore della patria senza subire conseguenze penali. Nel marzo 1794 i giacobini diedero inizio ad arresti e a esecuzioni dei loro estremisti. Nella notte tra il 30 e il 31 marzo fu arrestato e fu portato nella prigione del Lussemburgo e il 2 aprile comparve davanti al tribunale. Fu ghigliottinato il 5 aprile 1794. Rivolgendosi al boia Sanson disse Non dimenticare di mostrare la mia testa al popolo, ne vale la pena.